Musica Nei giorni scorsi è stato organizzato in via Panfilo a Macerata un sit-in dal consigliere comunale Alberto Cicaret che insieme a diversi residenti contesta la proposta di variante urbanistica passata in consiglio comunale. Un'operazione azzardata, pur se prevista dalla norma, ha affermato Cicaret. La questione ruota intorno alla realizzazione di una palazzina alta 9 metri e una strada che andrà a sbucare su via Due Fonti. Quindi altro cemento in un quartiere solo residenziale e una strada che creerebbe soltanto problemi alla sicurezza. Il consiglio comunale ha approvato una variante urbanistica che porterà una possibile edificazione in una area verde di via Panfilo, una delle poche aree verde di via Panfilo. La richiesta è quella di fermare questa operazione e lasciare che questa area verde possa diventare uno spazio a servizio della comunità di via Panfilo, quindi uno spazio attrezzato anche a servizio della scuola, la scuola elementare che sta proprio sopra quest'area. Quindi la richiesta è di non portare altro cemento in quest'area che già c'è nato e lasciarla a servizio dei residenti di via Panfilo. Quella zona per la sua conformazione è una zona tranquilla, lì ancora i bambini giocano in strada perché proprio la conformazione del quartiere rende il traffico quasi nullo. Creando una strada di attraversamento chiaramente si porterebbe altro traffico, anzi verrebbe creato traffico e quindi quelle caratteristiche di vivibilità del quartiere andrebbero immediatamente perse. Abbiamo promosso una raccolta firme, i residenti si sono molto attivati, siamo oltre 250 firme e so che si è già creato anche una specie di comitato informale dei residenti che stanno per fare un ulteriore volantinaggio, per cercare di muovere i cittadini perché è quello che serve, chi vive il quartiere si prende in carico del posto in cui vive. I circa 250 abitanti di via Panfilo, uniti nella raccolta firme, chiedono di mantenere lo spazio verde e di renderlo fruibile invece che abbandonato come è allo stato attuale. Quello che penso io è che non serve assolutamente a niente, assolutamente a niente, nel senso che qui viene fuori una strada il cui traffico praticamente non risolve la problematica nostra perché viene fuori una piccola strada e quindi che senso già? Oltre che dico qui tutto sto giamento che viene fuori non so quando va bene per la... Ma questo parco è comunque utilizzato dai bambini? Assolutamente no, questo adesso? Come è messo adesso no? Già i palazzi ne abbiamo moltissimi, questa è una via molto tranquilla, diciamo la strada finisce qui un altro palazzo. Ecco, io sono venuto qui che stavo tranquillo, se cominceranno i lavori in palazzo a nove piani non vedo... cioè questo parco anche perché è l'unico che è qui vicino, non c'è nient'altro c'è un parchetto qua su ma niente di che, poi c'è quello della scuola ma è un giardinetto.